Champions League ancora una volta è come potrebbe essere altrimenti perché dopo una notte magica come quella di ieri e per prepararci a una nuova notte magica di Champions siamo qui ad affrontare determinati argomenti che alla fine vanno a prendere in considerazione la coppa più importante per un club a livello mondiale perché è vero che c'è la libertadores ma il calcio europeo è sempre visto con un occhio di riguardo essendo il calcio più ricco e quindi dove vanno a giocare i migliori giocatori del mondo devo dire una cosa gli allenatori si preparano praticamente tutto l'anno per queste serate per raggiungere questi livelli e per noi tifosi non può essere altro che fantastico vedere che diverse filosofie di calcio poi alla fine riescono a uscire vittoriose in determinati duelli ieri sera abbiamo assistito appunto al Villareal che riesce nell'impresa ad eliminare anche il Bayern Monaco e dall'altra parte il Chelsea che nonostante una partita super dominata alla fine per via di qualche disattenzione deve cedere il posto e lasciare abbandonare lo scettro di campione perché quest'anno non potrà replicare e allora parto proprio da qui dal Villareal per riagganciarmi alla Juve ma secondo voi non è assurdo guardate bene assurdo parlare di Massimiliano Allegri in una partita di Champions tra Villareal e Bayern di Monaco io ribadino assurdo perché sia chi vuole salvare Allegri sia chi vuole screditare Allegri nelle ultime ore è impazzito nel discutere l'allenatore della Juventus sia da una parte sia dall'altra ragazzi il problema è sempre quello ne parlavo nel video di ieri nel finale del video di ieri le etichette quando tu vuoi identificare degli estremi usi le etichette il bianco e il nero ieri facevo l'esempio di fenomeno e brocco possiamo aggiungere gli allegriani e gli anti allegriani allora io vorrei avere qui di fronte a me la persona che ha inventato l'etichetta allegriano e la persona che ha inventato l'etichetta anti allegriano e vorrei pigliarli a schiaffi ed è un problema che va oltre il calcio è perché abbiamo visto i vax e i no vax durante tutta la pandemia e identificavamo all'interno di queste due categorie mille mille personalità differenti magari uno era no vax per motivi di un tipo diverso dal covid non esiste no vax quindi deficiente oppure uno era vax e coglione noi ormai siamo abituati a vivere in un sistema in cui se la pensi così sei così se la pensi colà sei colà e allora ragazzi non miglioreremo mai purtroppo non miglioreremo mai se questo è il modo di affrontare le discussioni dobbiamo stendere un velo pietoso e dobbiamo rassegnarci all'idea che non ci sarà mai un confronto un dialogo mai ci saranno sempre solo due etichette due poli due estremi e saremo praticamente identificati sempre tutti come una sorta di politici destra o sinistra dove ti schieri scegli la tua arma da che parte vuoi combattere un'eventuale guerra perché di guerra si parla non di guerra vera e propria come quella che è scoppiata da 40 50 giorni qui in Europa in Ucraina ma di una guerra ideologica che è dannosa per fortuna non come quella vera ma che è dannosa è veramente dannosa torno su tre punti in realtà due li ho già trattati ieri sera e uno si aggancia assolutamente a questo discorso che ho fatto adesso il terzo è inedito ma è un vecchio cavallo di battaglia che torna fuori dopo la partita di ieri sera le ultime eliminazioni della juventus degli ultimi quattro anni ho fatto anche un post ve lo riporto anche qui la juventus negli ultimi quattro anni viene eliminata da l'ajax da il lione da il porto da il villareale e alla fine l'ajax arriva ai quarti scusate alle semifinali nei primi quattro viene eliminata dal tottenham che poi andrà a giocare la finale di champions viene eliminata per un pelo perché stava per raggiungere addirittura la finale veniamo eliminati dal lione agli ottavi di finale che poi butta fuori anche guardiola il manchester city per poi perdere contro il bayern monaco che vincerà la champions nell'anno del covid un anno complicato veniamo eliminati dal porto l'anno scorso agli ottavi ancora una volta porto che ai quarti poi beccherà il celsi verrà eliminato dal celsi celsi che poi vincerà la champions league quest'anno veniamo eliminati dal villareal agli ottavi villareal che poi riuscirà come abbiamo detto poco fa a buttare fuori anche il bayern monaco ai quarti di finale e ora vediamo che cosa l'aspetta stasera impareremo anche l'avversario del villareal e allora come si legge questo dato non si legge si legge in un solo modo purtroppo da una parte siamo stati sfortunati perché abbiamo sempre beccato la squadra rivelazione forse siamo stati bravi noi a far diventare squadra rivelazioni dandogli un po di fiducia tradotto siamo riusciti a buttare fuori la eventus dalla champions allora forse possiamo fare comunque bene allora forse abbiamo le possibilità di andare avanti ancora può essere una chiave di lettura questa perché no dall'altra parte vi dico io non la rivaluto in nessun modo perché per quanto mi riguarda la prima juventus quindi quella con l'ajax aveva tutte le carte in regola per passare il turno battere l'ajax e andare avanti la juventus di lione aveva tutte le carte in regola per vincere superare il turno con lione e andare ai quarti di finale la juventus colporto tra l'altro attraverso il quadrato ancora me la sogno di notte aveva tutte le carte in regola lo poteva fare la juventus di quest'anno aveva tutte le carte in regola lo poteva fare quindi per me non si ridimensiona niente poi è ovvio che anche il livello della juve è cambiato negli ultimi quattro anni stiamo parlando della prima juve di ronaldo la seconda juve di ronaldo terza juve di ronaldo primo anno di juve senza ronaldo sono tutte situazioni differenti con tre allenatori diversi uno a distanza di tre anni perché poi esonerato ritornato quindi è impossibile fare un'analisi precisa di questa cosa qui io aggiungo che solitamente abbiamo sempre vinto praticamente la partita di ritorno almeno due volte abbiamo vinto la partita di ritorno per poi piegarci nella partita appunto decisiva nelle due volte con allegri però io dico anche una cosa ne parlavamo anche ieri sera sono primi tempi le partite di andata e noi purtroppo tante volte la stiamo sbagliando e abbiamo visto che in realtà una la puoi anche sbagliare a patto che poi la seconda si è assolutamente convinto di riuscire a rimetterla in piedi e quindi qual è a questo punto la formula magica della champions qual è vincere la partita di andata vincere la partita di ritorno la risposta più facile è farle bene tutte e due perché non ci stiamo riuscendo da quattro anni a questa parte anzi da quattro anni a questa parte ne stiamo riuscendo a far bene una forse ogni tanto e quindi per me non cambia niente per me non cambia niente era una delusione coccente uscire con l'Ajax una delusione coccente uscire con Lione una delusione coccente uscire col Porto una delusione coccente ancora maggiore uscire col Villareal perché era lo stadio perché ne abbiamo presi tre in dieci minuti dopo una partita che avevi fatto bene nel primo tempo un po' meno bene nel secondo ma comunque ancora eri tu padrone del campo e quindi a me non cambia niente e allora qua mi ricollego invece a un'altra cosa anche qui ho fatto un post e ne parlavamo ieri sera due dogmi nel calcio che vengano confermati secondo me dalla serata di ieri sera che quando parliamo di dominio di proposta e di queste cose ci stiamo semplicemente riempiendo la bocca ci riempiamo la bocca in base a quello che ci piace ieri sera vi ho analizzato la partita del Chelsea e ho detto guardate la partita del Chelsea è lo stereotipo perfetto della partita che piace a me io vorrei vedere la Juve giocare sempre come ha giocato il Chelsea ieri sera qualche passaggio a iniziare da dietro poi andiamo in verticale sugli attaccanti andiamo tutti dentro, cambi gioco, ampiezza, 1-2, triangolazioni, velocità a me piace quel calcio lì, calcio di questo tipo ma è una cosa che piace a me non è una cosa che poi ti permette di ma perché c'è una verità, nel calcio non c'è un modo di vincere sennò tutti i allenatori andrebbero ad allenarsi tutte le mattine scendono in campo e fanno quel tipo di allenamento per fare quel gioco che al 100% ottiene risultati io invece vi svelo i due modi universali per vincere nel calcio che non sono proposte, non sono filosofie ci sono due cose sole che nel calcio ti permettono ti permettono di vincere le partite sempre al 100% metodo scientifico by Luca Toselli c'è il copyright, ve lo dico la conversione, quindi la realizzazione nella fase offensiva delle palle gol che ottieni quindi cercare di realizzare quanti più gol possibili con le occasioni che hai è il rimanere nella partita perché ieri sera il Real Madrid ci ha dimostrato che è esattamente questo se tu hai poche occasioni da gol, ma quelle poche occasioni da gol riesci a realizzarle e se subisci tanto ma rimani nella partita e riesci a sfruttare gli episodi che ti capitano vai avanti e il Real Madrid ieri sera, ragazzi, merita di andare avanti nonostante il Chelsea abbia fatto la partita che piace a me abbia giocato il calcio che piace a me, abbia dominato la partita va avanti il Real è di giusto che vada avanti il Real perché nel calcio, questa nello sport, facciamo così, al di là del calcio nello sport, questa, la testa è la cosa più importante e vi ho detto una banalità perché se le traduciamo ancora più all'osso queste due cose vince chi fa gol e vince chi non prende gol e quindi devi fare entrambe le fasi fatte bene perché se ieri sera il Real Madrid subisce tanto ma poi quelle occasioni che hanno le butta dentro perde o se il Real Madrid quelle tante occasioni che ha prende gol può anche sfruttare le occasioni che ha avuto perde lo stesso e quindi ci deve essere un equilibrio tra queste due componenti rimanere nella partita sfruttare le occasioni che non significa rimanere undici dietro la linea del pallone e sperare di fare gol su calcio d'angolo perché so che qualcuno arriverà a scrivermi questa cosa non ho detto questo ho detto tutta un'altra cosa poi come sempre c'è qualcuno che le ditina le andrà a muovere sulla tastiera a prescindere perché vorrà dare commenti a cose che io non ho detto ma questo fa parte del gioco e quindi ben venga chi doveva capire probabilmente ha capito e allora ultimo punto assoluto della questione è questo l'eterno dibattito come abbiamo fatto l'eterno dibattito tra bel gioco e risultati come se ci fosse un modo che se giochi male perché c'è gente che continua a dirmi ma se giochiamo male in realtà otteniamo risultati io spero che che queste persone siano ormai ironiche e basta come quelle che mi dicono che se giochi male non ottieni risultati perché almeno sono due robe la psichiatria entrambe torniamo al discorso d'inizio l'etichetta gli estremi ma un altro eterno dibattito è i giovani i vecchi ieri sera a real madrid che cosa fa va avanti va avanti accorcia le distanze per l'1-3 assist di luca modric etichetta vecchi gol di rodrigo etichetta giovani deve essere sempre così deve essere un'amalgama perfetta di queste due componenti perché entrambe fanno parte del calcio e non è mai una questione di età perché adesso vi faccio l'esempio di delit che è probabilmente il nostro giocatore migliore del 99 quindi ha 22 23 anni una roba del genere è secondo me il giocatore più forte della juve dall'altra parte prendo un real madrid probabilmente il giocatore più forte del real è uno tra modric e benzemà che sono vecchi e quindi non è una questione di età è una questione di livello come il gol per quanto rodrigo sia giovane lo fa perché modric dà una palla strepitosa come quella di bernardeschi incredibile contro il malmo la palla che dà a ken il problema è che bernardeschi te ne fa una in un anno forse una in dieci e modric te li fa se vuole tutti i giorni e quindi parliamo di livelli è un'amalgama perfetta una squadra di successo una squadra che vince è composta da entrambe le parti e quindi per terminare questo video un coro per la juventus rinnovate con quadrado vi prego non mi ne frega niente se è vecchio abbiamo bisogno di lui guardando la juventus io dico senza quadrado che facciamo e quest'anno quadrado da me se ne prese tante di critiche perché ci sono stati dei momenti della stagione in cui proprio non mi è piaciuto e rimango però fedele alla mia idea e cioè noi senza con quadrado caput finiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti